max se ti conosco un po stasera ti sei divertito perché la partita è stata bella tante difese grande spettacolo una bella vittoria per noi sì sinceramente da dentro mi sembrava non ci fosse tanto ritmo perché comunque ci sono stati tanti errori e noi abbiamo giocato sì una buona gara non abbiamo giocato al cento per cento secondo me perché nelle fasi iniziali delle singole azioni abbiamo sofferto quindi mi riferisco alla battuta e alla ricezione in ricezione anche per merito della battuta avversaria naturalmente poi siamo stati invece molto bravi durante le azioni che abbiamo murato bene abbiamo difeso bene e quindi ecco secondo me questo ha fatto poi la differenza senti si va avanti giovedì c'è un'altra partita il ritmo è questo siamo campioni d'inverno a simone giannelli parlandoci poco fa interessava più o meno pochissimo non so a te se cambia qualcosa al ritmo siamo abituati insomma si gioca sempre questi sono i nostri calendari e va bene lo si sa già ad agosto quindi va bene così si è finita il campionato non cambia nulla essere campioni d'inverno perché insomma vincere sicuramente ci dà tranquillità serenità ci dà modo di allenare le cose che magari non vanno ancora tanto bene però essere lì primi cambia poco si è bello è bello vedere la classifica ma ai fini del campionato oggi cambia poco bene grazie max grazie a tutti grazie a tutti